ciao a tutti e bentornati su about biology nello scorso video che se non hai visto ti consiglio di recuperare abbiamo introdotto le reazioni chimiche lo studio di queste ci permette poi di individuare due tipi di sostanze diverse gli elementi e i composti un composto è per definizione una sostanza che attraverso una reazione chimica può essere suddivisa in sostanze più semplici il saccarosio il normale zucchero da tavola è un esempio di composto questo quando viene scaldato in una provetta si trasforma producendo una massa nerastra di carbonio e vapore acqueo che va a condensare sulle pareti di vetro anche l'acqua per esempio è un composto che può essere scisso tramite elettrolisi e la decomposizione dell'acqua dà origine a ossigeno e idrogeno ma non c'è nessuna reazione chimica che permette di decomporre ulteriormente il carbonio l'ossigeno o l'idrogeno e queste sostanze che si comportano come il carbonio l'ossigeno e l'idrogeno sono chiamate elementi gli elementi sono quindi per definizione delle sostanze che non possono essere decomposte in altre sostanze gli elementi che conosciamo sono poco più di 100 a ciascuno di essi è stato poi attribuito un nome e un simbolo e in natura gli elementi possono poi trovarsi o allo stato puro oppure combinati a formare dei composti di vario genere l'ossigeno per esempio si trova allo stato di elemento nell'aria ma entra a far parte di un gran numero di composti a questo proposito è importante notare che il comportamento chimico dei composti è totalmente diverso dal comportamento chimico degli elementi che li costituiscono nei composti gli elementi non sono semplicemente mescolati come accade nei miscugli ma sono uniti saldamente tanto che non è possibile separarli tramite dei processi fisici per separare gli elementi che formano un composto occorre rompere il composto stesso e questo tramite una reazione chimica gli elementi hanno quindi una caratteristica importante possono unirsi o ricombinarsi in modo diverso ma non è mai possibile trasformare durante una reazione chimica un elemento in un altro quindi non è possibile convertire piombo in oro ossigeno in azoto o cloro in rame in una qualunque reazione chimica gli elementi che costituiscono i reagenti sono gli stessi che combinati diversamente vanno a formare i prodotti quelle reazioni chimiche che permettono di ricavare da un composto gli elementi che lo costituiscono sono dette poi reazioni di decomposizione le reazioni che consentono di produrre dei composti invece a partire dagli elementi sono dette reazioni di sintesi sulla base dei risultati ottenuti dallo studio di queste reazioni agli inizi dell'ottocento il chimico francese joseph proust enunciò una legge ormai nota come legge delle proporzioni definite e costanti o legge di proust questa afferma che in ogni composto gli elementi sono presenti in un rapporto di massa definito e costante questa legge consente poi di distinguere con sicurezza i composti dai miscugli un composto diversamente da un miscuglio ha una sua composizione qualitativa e quantitativa che è sempre uguale indipendentemente dalla sua origine l'acqua per esempio contiene sempre una quantità in grammi di ossigeno otto volte più grande della quantità di idrogeno la legge delle proporzioni definite e costanti viene rispettata non solo quando si decompone una sostanza negli elementi che la costituiscono grazie alle reazioni di decomposizione ma anche quando si sintetizza un nuovo composto partendo dagli elementi quindi dalle reazioni di sintesi le percentuali in massa degli elementi che si combinano infatti non dipendono dalle quantità di reagenti utilizzate o dal procedimento scelto per la preparazione ma dalla natura chimica del composto se uno degli elementi si trova infatti in quantità superiore a quella prevista dal rapporto corretto quella parte in eccesso non reagirà ma nell'universo sulla terra e nei viventi quali sono gli elementi principali la maggior parte degli elementi naturali infatti non si trova in natura allo stato puro ma sotto forma di composti e grazie alla spettroscopia di cui parleremo nei prossimi video oggi riusciamo a identificare qualunque elemento anche quando si trova in un composto questo si tratta di un metodo complesso ma molto efficace che ci permette di scoprire elementi che sono presenti anche in una stella lontana anni luce da noi o addirittura in galassie lontane centinaia di anni luce per mezzo della spettroscopia è stato possibile verificare che nell'universo sono presenti tutti gli elementi noti della tavola periodica che non sono distribuiti però in modo omogeneo la composizione del nostro corpo per esempio è profondamente diversa dalla composizione della crosta terrestre o dell'atmosfera di marte che è presente seppur molto rarefatta nell'universo gli elementi più diffusi sono idrogeno e elio che complessivamente rappresentano più del 99 per cento della massa totale questi sono seguiti poi da ossigeno carbonio e azoto mentre tutti gli altri elementi sono presenti in tracce nella crosta terrestre troviamo invece una composizione ben diversa troviamo infatti l'ossigeno che è pari a circa il 50 per cento della massa totale mentre poi idrogeno azoto e carbonio compaiono soltanto in tracce nell'atmosfera del nostro pianeta l'elemento più importante è invece l'azoto seguito poi dall'ossigeno e altri gas e gli elementi indispensabili per esempio per la nostra vita sono ossigeno carbonio idrogeno azoto calcio e fosforo questi elementi insieme rappresentano più del 99 per cento della massa totale del corpo umano ma molti altri elementi come possono essere il magnesio il ferro lo zinco sono presenti soltanto in tracce il fatto però che siano presenti in tracce non significa che non siano fondamentali parleremo infatti poi di micronutrienti macronutrienti quando approfondiremo questo capitolo ma con questo per il video di oggi è tutto ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti e di seguirci su instagram e telegram ai link che trovi qua sotto in descrizione ti ricordo di lasciarlo like al video se ti è piaciuto e noi possiamo sentirci qua sotto nei commenti per eventuali domande o dubbi a riguardo per il momento è quindi tutto ti ringrazio per l'attenzione e a presto da about biology ci ringrazio per l'attenzione e a presto di iscrizione